Il terzo anno che portiamo avanti questo progetto, in genere non è facile riunire un po' tutte le scuole di danza e proprio concordare e mettere su uno spettacolo. Noi per il terzo anno in Pertempi ci siamo riusciti proprio per dimostrare che in effetti lo sport è socializzazione e proprio nello sport si deve stare insieme e il motto di questa serata è proprio l'unione fa la danza. Siamo presenti in tutte e sei le scuole di danza del territorio con vari stili di danza diversi ma ci accomuna una cosa unica che è proprio l'arte della danza e dello stare insieme.